Una giovane donna di 46 anni è morta a causa di un malore improvviso. La vittima Amber Stokis aveva sempre posto una grande enfasi sull'adozione di uno stile di vita salutare e orientato all'alimentazione ben bilanciata. Inoltre praticava regolarmente attività fisiche, amava intraprendere corse all'aperto, coprendo lunghe distanze con la sua passione per la corsa. Perciò i familiari non riescono a capacitarsi della sua morte. Ora è fondamentale indagare più approfonditamente per comprenderne le circostanze e identificare eventuali fattori che potrebbero aver contribuito alla morte di questa giovane madre che lascia alle spalle due figli e un compagno di vita, Andy Kitsen. Grazie a tutti. Grazie a tutti.